Siamo dell'Università di Palermo e stiamo facendo uno scavo archeologico al santuario di Contradamango che è un santuario extraurbano al di fuori del perimetro della città che guarda diciamo così al vallone della Fusa, un posto molto suggestivo dal punto di vista anche paesaggistico. Abbiamo iniziato due settimane e mezzo fa, questa è l'ultima settimana di lavoro con i nostri ragazzi del corso di laurea triennale e magistrale in archeologia. Noi scaviamo in questa zona da due anni a questa parte e prima di noi ci sono stati diciamo più di dieci anni di scavi tra gli anni 50 e gli anni 60 del secolo scorso. Speriamo di poter raccogliere altri elementi per ricostruire questo grandioso tempio che stava all'interno di questo recinto sacro e di raccogliere dati anche sui riti, le pratiche religiose che si svolgevano in quest'area sacra. Le nostre conoscenze, certo anche sulla religione di Segesta e degli Elimi. È un posto assolutamente monumentale, già ci sono resti monumentali e alcuni dati anche già che vengono dai vecchi scavi.